Mario Centeno si dimette da ministro delle finanze portoghese e quindi dovrà lasciare anche l'Eurogruppo. Appena un mese fa il ministro traballava e fu salvato dopo aver messo in imbarazzo il premier per non avergli comunicato il maxiprestito al nuovo banco, uno scandalo che sembrava rimosso e invece ora si dimette e lo comunica con un tweet senza dare spiegazioni precise. Ma poiché il Parlamento ha appena approvato la riforma che impedirà di assumere incarichi nelle banche per cinque anni dopo aver lasciato ruoli nel governo, le dimissioni da ministro sin dalla prossima settimana gli consentiranno con ogni probabilità di essere nominato alla guida del Banco de Portugal prima che entre in vigore la nuova legge. Se al ministero la successione sembra chiara con il suo sottosegretario Joan Leão pronto a rilevare l'incarico, per l'Eurogruppo il suo mandato terminerà il 13 luglio e la corsa alla successione è già partita. I rumor brussellesi danno per favorita la spagnola Nadia Calvino che prima di entrare nel governo di Sanchez si occupava a Bruxelles proprio della distribuzione del budget europeo, tema evidentemente centrale in questo periodo.